Una delegazione della Repubblica di Serbia, guidata dal primo ministro Aleksandar Vucic, ha incontrato i rappresentanti delle categorie economiche del Veneto in un appuntamento organizzato a Palazzo Balbi a Venezia dal presidente della regione Luca Zaia. Un appuntamento tra due territori storicamente vicini, voluto per rafforzare i rapporti di collaborazione che hanno portato negli ultimi anni numerose imprese venete a lavorare in Serbia. Allora è un grande piacere, un grande onore essere qua in Veneto di nuovo, essere ospite oggi qua di Luca Zaia e tutti voi. Sono molto contento di rincontrare l'amico Zaia che ho già visto nel passato. Sono molto contento per la grande presenza degli imprenditori oggi qua e l'interesse che è stato dimostrato nei nostri confronti. Ci sono già imprese venete presenti nella Serbia, dalla Calzedonia a Geox e varie altre. Il nostro è un mercato che ha dei legami con la Russia, con la Turchia, con tanti altri mercati nel mondo. Siamo degli amici molto sinceri del vostro territorio e siamo contenti di collaborare insieme. Le imprese venete stanno costantemente incrementando la loro presenza in Serbia dove nel 2015 l'export regionale pari a 225 milioni di euro ha fatto registrare un incremento di oltre il 19% soprattutto nei settori dell'abbigliamento e delle calzature. Una crescita favorita dalla posizione strategica di ponte verso l'est e soprattutto verso la Russia nei confronti della quale la Repubblica Serba non ha adottato le sanzioni imposte dall'Europa. E proprio nel contesto dell'Unione Europea dove ambisce ad entrare, la Serbia garantisce le migliori condizioni economiche in fatto di costo del lavoro e pressione fiscale. Il costo del mano d'opera in Serbia sicuramente non è il più basso in Europa in assoluto, ad esempio in Macedonia il costo di lavoro è ancora più basso, però là non c'è stabilità politica, ad esempio, oppure anche in Bosnia e Herzegovina. Quello che noi offriamo in più invece su cui voglio insistere sono le basse tasse e poi la qualità della forza lavoro, per cui sono questi i nostri, diciamo, ponti di forza e credo sia importante. È quello però che è dato di fatto che il costo di mano d'opera è sicuramente più basso che in paesi dell'Unione Europea, quali Romania, Repubblica Ceca e altri. Una collaborazione portata avanti non in nome della delocalizzazione, ma dell'impegno reciproco a costruire linee condivise per lo sviluppo di agricoltura, artigianato, turismo e cultura. Questo è l'obiettivo dichiarato del Presidente di Regione Veneto, Luca Zaia. Beh, continuare questa linea cosmopolita che comunque ci viene dalla storia della Repubblica Veneta, consolidare i rapporti internazionali nell'interesse delle nostre comunità. Quando dico nostra comunità, dico quella del popolo veneto e quella del popolo serbo. È pur vero che se da un lato qualcuno si pone il tema della delocalizzazione e del depauperamento produttivo in Veneto, è altrettanto vero che molte imprese che delocalizzano morirebbero se non delocalizzassero. Il che significa che per molte imprese è anche un modo per sopravvivere anche con delle unità produttive in Veneto e salvando alcune parti produttive all'estero.